Sentite, prima proprio nel servizio che abbiamo visto di Omar Reda abbiamo concluso anche, lo diceva molto bene l'attoressa Bruschelli, del fatto dello stile di vita, quindi anche il movimento fa bene. Allora, c'è una iniziativa che prende proprio la WISP, che è l'Unione Italiana Sport per Tutti, prima era sport popolare, adesso è sport per tutti, e noi abbiamo il presidente, che è Tiziano Pesce. In che cosa consiste? Andiamo in farmacia e compriamo delle pasticche, ma non sono pasticche. Buongiorno, allora ci spieghi un po' questa bella iniziativa sullo sport per tutti. Grazie, tanto complimenti per la trasmissione, ma diciamo appunto all'indomani della fine delle festività natalizie diciamo che non tutti comprendiamo, ecco come abbiamo visto anche in questi primi servizi, l'importanza di un corretto stile di vita, i benefici dell'attività fisica e sportiva. Non sempre è semplice, come dire, vincere la pigrizia. Allora ci viene in aiuto un farmaco particolare, un farmaco speciale, pillole di movimento, una campagna nazionale di comunicazione, di sensibilizzazione, di promozione, vera propria, dell'attività fisico e sportiva, che presenteremo giovedì 13 gennaio a Bologna. Quindi oggi diamo proprio un'anteprima nazionale, lo faremo insieme a Lodo Guenzi e tra gli altri, testimonial del progetto, cantante leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale. Lo faremo a Bologna perché proprio a Bologna partì nel 2011 questa diciamo idea molto innovativa e che ha avuto risultati molto importanti. Allora Presidente, aspetti un attimo, aspetti un attimo poi aggiunge qualcosa perché su quello che lei ha appena detto andiamo proprio a vedere questo sport che riguarda queste pillole di movimento che sono incredibili, veramente un'idea fantastica perché quando poi tu apri la scatolina delle pillole non ci sono pillole, ci sono indicazioni per far movimento fisico, vediamo insieme. Pillole di movimento? Beh bene, io le posso prendere una per me e una per i ragazzi, amici, sì. E' la band che, quelli stanno sempre sul divano. Eh, immagino. Ciao. Grazie. È una vita di artisti, non è che non lo so. L'attimento per lo sport, abbiamo visto, quindi si va, si acquistano le pillole in movimento, ve le voglio far vedere un attimo al volo perché guardate, questa è la scatolina, questa è la scatolina, siete curiose? Eh, non lo sapevate, eh, neanche io in verità. Poi dopo si apre, non ci sono pillole come vi dicevo, ma c'è un foglio, eccolo qua, guardate, lo metto a favore di camera, come vedete e qua dietro c'è tutto scritto quello che possiamo fare. E quindi un movimento fisico durante la giornata, camminare, non soltanto, giusto pesce? Questa è un'iniziativa che viene fatta anche, dicevi, col Dipartimento per lo Sport, no? Assolutamente, è proprio così, è una vera e propria campagna di contrasto alla sedentarietà che sappiamo appunto essere un grave fattore di rischio per la salute. È un progetto quindi che dall'esperienza di Bologna diventa nazionale, che andrà a coinvolgere 31 comitati territoriali dell'ampia rete associativa WISP, coinvolgerà nel totale oltre 220 comuni e quasi 400 associazioni e società sportive dell'intero territorio. Un progetto sostenuto e finanziato dal Dipartimento per lo Sport e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione imprescindibile con la rete delle farmacie italiane. Come ha fatto vedere un bugiardino ecco, diciamo, speciale che oltre a riportare messaggi sui benefici dell'attività fisica, redatto col contributo del Ministero della Salute, porterà l'indicazione di tutte le associazioni delle società sportive del territorio coinvolte, i recapiti da contattare per partecipare ad un mese gratuito di attività fisica e sportiva. Ci saranno centinaia di attività, si andrà a delle attività più tradizionali in palestra, a quelle più innovative, alle ginnastiche dolci, dalle attività in acqua, al ballo e tanto altro. Infine per chi non potrà avere problemi di mobilità, sarà prevista anche una web app che oltre a contenere i riferimenti del bugiardino della scatola di pilloli di movimento, porterà anche le informazioni per partecipare anche a corsi online. Allora, dottoressa Bruschelli, rimanga un attimo Tiziano Pesce perché ho una domanda proprio un minuto, poi le ruberò. Carla Bruschelli, effettivamente il movimento fisico e questa politica che viene fatta perché abbiamo scoperto che anche tanti giovani non fanno tanto movimento, c'è qualcuno magari che esagera, invece qualcuno che prende un po' sotto gamba il fatto di fare ginnastica, movimento fisico, invece è importante. È fondamentale perché il mantenimento dell'equilibrio corporeo è fortemente condizionato non solo da ciò che entra e quindi il cibo, ma anche da ciò che esce o da quanto esce attraverso la dispersione delle calorie che si svolge con l'esercizio fisico, il quale occorre anche per una serie di motivazioni, perché praticare l'attività motoria serve a riequilibrare alcuni ormoni che sono ad esempio quelli dello stress, serve a prevenire fin dall'età infantile l'insorgenza di malattie dello scheletro, di qualsiasi tipologia, forme di artrite, forme di artrosi, persino l'osteoporosi, cioè l'attività motoria serve a tutto, alla mente e al corpo, per una serie di motivazioni. Oggi molti giovani, io so, essere fortemente condizionati dalle loro attività lavorative, cioè non hanno il tempo da dedicare, soprattutto nelle grandi città, magari le distanze da percorrere per recarsi nella sede di lavoro. hanno perso molto delle abitudini che un tempo c'erano, poi proveniamo da due anni di restrizioni legate ai contagi. Il Covid certo non ci ha aiutato, ma noi possiamo praticare, è una questione di cultura e di volontà, possiamo praticare esercizio anche gli anziani a domicilio. Noi dobbiamo rieducare il nostro modo di approcciare la salute. Tiziano Pesce, davvero un minuto, la dottoressa Bruschelli puntava il dito un pochino anche sui giovani, effettivamente la scelta dello stato sociale di Lodo Guenzi evidentemente è proprio per questo, immagino. Assolutamente sì, Lodo Guenzi è un artista tutto tondo, non è solo un cantante, un attore, un compositore, che sa parlare a tutte le generazioni, soprattutto con un linguaggio molto fresco ai giovani. Avete fatto bene a sottolineare ovviamente la fase storica pesante che stiamo vivendo, soprattutto che stanno vivendo i nostri giovani, che rappresentano la fascia di età più colpita anche dalle restrizioni dell'emergenza sanitaria. Questo progetto vuole raggiungere tutte le fasce di età, vuole essere una testimonianza attiva, significativa, che la rete associativa dell'UISP mette a disposizione di tutto il territorio nazionale. Ancora una sottolineatura, pillole di movimento sono appunto questi farmaci particolari che troveremo nelle farmacie, non si acquisteranno, sono gratuite, così come sarà gratuita la possibilità di praticare attività sportiva e fisica per un mese, e poi l'auspicio è quello che tutti i partecipanti possano continuare all'interno delle associazioni e delle società sportive del territorio. Viva lo sport, viva lo sport, che bella questa iniziativa dell'Unione Italiana, sport per tutti, perché poi questo è il senso. Viva il movimento fisico, viva lo sport.